Ok, ora abbiamo raccolto il materiale andiamo a vedere di costruire la stanza con un'ambientazione di mostra Allora, l'ambientazione di mostra che vi consiglio è in questo momento una scena sapete che in Mozilla Hubs ci sono dei template cioè dei meccanismi abbastanza pre-costruiti per fare le vostre stanze quindi noi dovremmo andare a raccogliere questa scena La scena si trova fra le scene standard di Mozilla Hubs ma per semplicità io vi ho fatto una zilla aliasl.org.hubs mostra che se funziona vi porta direttamente sulla scena che si chiama Gathering Hall questa Gathering Hall è una scena costruita da Hubs Team quindi è distribuita da Mozilla e possiamo o farlo lavorare in Spoke vedremo forse anche in un laboratorio o comunque in un incontro successivo come lavorare in Spoke oppure lavorarci semplicemente con le tecniche che conosciamo quindi facciamo create a room with this scene quindi creiamo la nostra stanza e qui facciamo la mostra che è costruita partendo da quella ecco qui gli diamo il nome e qui la chiamiamo mostra salazar voi gli metterete le vostre cose shared link insomma mettiamo tutto ok e quindi vedete che quando si entra nella stanza entriamo nella stanza abbiamo praticamente un ambiente già predisposto con un tendone, un ambiente espositivo e ci sono praticamente vedete i comandi più importanti tipo il tab per mettere le motion quindi tab che forse non avevamo visto quindi permette di mettere le motion piuttosto che fare dei chat poi abbiamo il W ASD per muoversi il G per volare e poi abbiamo lo space per il menu famoso che abbiamo imparato l'altra volta quindi questa cosa qua diciamo che spiega a chi arriva anche quali sono i comandi quindi mi sembra il minimo minimo vitale dopodichè andiamo in questa stanza e vediamo che qui abbiamo dei punti dove possiamo mettere delle cose nostre quindi se noi vogliamo mettere dei pannelli concentriamoci allora concentriamoci con uno dei nostri pannelli e vogliamo metterli al posto di questo qui anzitutto vediamo questo è un pannello dove noi dovremmo mettere fondamentalmente qui sopra le cose nostre e quindi come facciamo a mettere le cose nostre andiamo con più e ci andiamo a cercare sotto il nostro download ok sotto download ho fatto anche una cartella per intrecciare tutti i file che ci interessavano e qui diciamo che vogliamo metterci il nostro cane con il pannello del cane qua davanti allora cominciamo a prendere abbiamo visto che abbiamo preso il più col più compariva la scelta da dove prendere le informazioni prendiamo il cane ci mettiamo proprio di fronte al punto in cui vogliamo mettere il cane facciamo apri e vediamo che il cane viene messo praticamente davanti a noi ora se teniamo cliccato il cane lo possiamo sollevare e poi con W possiamo spostarlo vedete che entra dentro il nostro muro noi cerchiamo di fare in modo tale che vada appena fuori e poi premiamo premiamo la barra tra lo spazio e poi ingrandiamo il pannello fino a ricoprire la zona che ci interessa in modo tale che non si vado a S per andare indietro il pannello lo apriamo e lo mettiamo e poi ad esempio per spostarlo in alto dobbiamo cliccarlo e selezionarlo in alto e quindi così cerchiamo di fare in modo tale di allinearlo ora se noi siamo proprio frontali alla parete questa operazione dovrebbe venire bene per vedere se è venuta bene andiamo di lato e vediamo che è inclinato un pochino storto quindi l'operazione di raddrizzamento che è la parte che è un pochino più delicata da fare come la facciamo? andiamo qua la raddrizziamo dobbiamo metterci possibilmente frontali quindi usiamo A eccetera in modo tale da andare in una posizione esattamente frontale questa e poi possiamo usare questo per raddrizzarlo un po' vedete che così si riesce un pochino a raddrizzarlo in realtà come vedete abbiamo anche rovesciato perché è come se lo possiamo praticamente giustare nei due sensi comunque supponiamo adesso purtroppo e vediamo che queste cose qua fatte da qua fuori sono un po' più complicate ma comunque più o meno si dovrebbe riuscire a quindi se noi se lo spostiamo e poi lo dunque qua aspettate ci mettiamo un pochino di lato così ok per centrare questa perché abbassando un pochino vedete che gira ecco quindi questo è il ok allora non mi ricordo se premendo lo shift si ecco si muove in maniera regolare vedete quindi premendo shift adesso mi rimetto quindi vedete questa cosa qua è quello che dicevo anche un'altra volta premo la barra vado qua premo shift clicco e posso muovere più o meno ottenendo praticamente un percorso ecco poi faccio così ecco insomma è un po' delicato comunque quando alla fine siete ragionevolmente convinte convinti di averlo messo più o meno dritto adesso io non per il video lo lascio così lo cliccate e fate pin e quindi il cane a questo punto anche se qualcuno lo clicca non riesce a muoverlo perché è proprio fissato per ottenere un risultato migliore di allineamento bisogna farlo con spoke e magari vi faccio vedere anche un video nel prossimo video vi faccio vedere come ottenere l'allineamento più ideale con spoke però facciamo una cosa qui ci mettiamo vicino anche quell'etichetta che abbiamo visto prima quindi facciamo più ci mettiamo il pannello cane che era un altro disegnino questo vedete questo disegnino adesso è troppo grosso quindi lo restringo tenendo cliccato lo restringo lo posiziono più o meno sotto faccio anche qui con shift più o meno lo giro e lo metto in modo tale quindi mi sposto in modo tale da vedere ecco vedete che in realtà il pannello adesso non è proprio dove immaginavo che fosse quindi per muovere gli oggetti ci mettiamo in prospettiva quindi questo è il pannello devo vederlo un pochino almeno ok e poi lo clicco e lo sposto verso il muro questo modo di allineare è un pochino può essere un pochino lungo perché bisogna vederlo nelle varie prospettive vedete vedete che adesso l'ho infilato dentro il muro lo guardo ancora di qua lo cerco di allinearlo un po' con shift spazio lo giro ecco eventualmente lo ingrandisco lo ingrandisco un po' lo sposto un po' sotto lo ingrandisco insomma cerco di ribattarmi in modo tale che abbia una parvenza interessante quindi vedete che a questo punto uno che arriva qua vede il quadro oltretutto per vederlo meglio basta che faccia barra e poi se clicca qua vedete che lo vede bene se invece faccio open link lo vede ancora meglio perché vede l'immagine proprio originaria stessa cosa per qua se premo e premo il questo mirino vedete che si vede praticamente il tutto la nostra quello che abbiamo copiato prima quindi si dice credit quindi mac crindle collection image use open access eccetera queste cose qua a seconda di come tutte riprese si vedono più o meno bene però c'è anche l'open link questo che lo vede direi benino quindi questo è diciamo ah ricordiamoci sempre di fare il pin in modo tale che inavvertitamente una persona non lo clicchi e lo sposti le cose pinnate ovviamente sono sono poi persistenti vedete che qui abbiamo questi difetti e questi difetti che comunque non sono drammatici nel senso che uno che arriva nella vostra stanza se si mette di fronte anche se leggermente è storto il quadro a parte che vedete che già la figura originale era un filo distorta e non si ne accorge che riesce comunque ad avere un'idea buona insomma della mostra nel prossimo video invece vediamo come ottenere lo stesso effetto con Spoke e quindi vedrete come con Spoke si riesce ad allineare molto meglio i quadri e le descrizioni quindi direi questo è tutto per questo secondo incontro